Ciao Toners, oggi vedremo per moltare l'aletto universale Simone Racing. Il primo step è di aprire il bagagliaio, per poi attaccarci le basette di supporto. Piccolo consiglio, mettete un po' di gomma per evitare graffi. Avvitiamo bene le basette e montiamo le staffe. La cosa particolare di questo spoiler è che non bisogna imboccare il bagagliaio. Utilizzando le plastre regolabili, sì, avete capito bene, regolabili per adattarsi a ogni tipo di baule, c'entriamo il lettone alla macchina. Dopo aver avvitato e bloccato le piastre, attacchiamole alle staffe. E dopo aver scelto una delle possibili angolazioni dell'ala, fissiamole bene alla macchina. Successivamente avvitiamo le piastre laterali. E poi, come ultimo step, andiamo a controllare di aver stretto bene tutte le viti. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie per la visione!